ciao 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 siamo in un nuovo video oggi siamo su transformation toy simulator su roblox oggi siamo dei non so dei transformer a parte che sono una femmina ma lasciamo stare questa qui la skin iniziale io posso diventare una macchinina il nostro obiettivo è quello di distruggere i palazzi per salire di livello e avere dei nuovi di nuovi non so altri transformer ora distruggiamo sti palazzi io non tocca niente non so come livello 5 quello 6 però che sia livello 10 il prossimo livello 7 cos'è questo che fico voglio io dattemelo che io non ho livello 7 livello 8 livello 9 sono morto no aiuto livello 10 livello 10 quando arriviamo al prossimo un attimo livello 15 forse 600 dollari wow cos'è in cosa mi trasformi è un carroattrezzi è un carroattrezzi avevo visto il gancho davanti questo è uno nuovo ciao ciao distruggi buongiorno 199 robux quello cos'è una truffa e nel frattempo cammino e distruggi facciamo stare 3500 like qual'è premium cos'è ma poi io voglio capire 35000 like cosa come livello 12 perché mi ha fatto prendere questo no vabbè sono un astronave spaziale io mi dissocio grazie un attimo interruzione un'interruzione un'interruzione cioè io ho sbloccato questa astronave che io neanche so come ho fatto cioè praticamente io ho cliccato con la zona ma io neanche volevo a parte che è fighissimo fighissima sta cosa forse l'ho comprata ho già un gruppo reward what questo è una trivella è un dinosauro trivella oddio però invece io ho questo coso è un'astronave vabbè magari ho scoperto qui che c'è il negozio delle skin ma io ho sbloccato cioè io avevo sbloccato un'altra questa qui fighissima non so come ma l'ho sbloccata dove in una quello che si trova non so quelli che si trovano sempre nella nello spazio nello spazio siderale con 1000 likes visto che hanno raggiunto 35.000 likes tu puoi prendere questo qui è premium mi devo abbonare no abbonati tu qui c'è il negozio buongiorno e a me sinceramente piaceva di più l'astronave poi io non so cos'è no 1200 io non ce li ho vabbè ci trasformiamo nell'astronave che è più rara è anche più rara qui si trova il gorilla il ciurilla un giorno qualcuno mi ha inviato una ricchezza di amicizia mi dispiace ma sto registrando poi prendiamo saliamo di livello che il prossimo livello si trovava il livello 27 27 era se credo che il prossimo personaggio è il livello 27 scusa ho sbloccato il livello 27 è il prossimo personaggio livello 68 what? cosa? livello 15 no ho capito non lo voglio io l'astronave che l'ho pagato un sacco credo non so quanto questo non lo posso rompere pensavo che era una parte che si rompere distrusciamo qua andiamo di qua distrusciamo pure qua però voglio andare anche a visitare è solo che io voglio andare a salire il livello qui ecco se tu arrivi al livello 20 puoi entrare qui dove ci sono delle monete credo che puoi fare delle monete trasformazione trasformazione astronave piu ciao buongiorno buongiorno aio mi sono creato dentro l'edificio aspetta come si crea l'edificio io mi metto dentro che più lo sfascio ed esco per favore è pronto questo cos'è eeeh ma sto ballando no 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 cos'è poi qui cosa abbiamo questa cosa viola basta ballare eeeh cos'è basta distruggi perchè questo non so niente i gambe cos'è il dinosauro 17 forza livello 20 voglio livello 20 please 18 19 robux cos'è ma lì c'è uno squalo lì c'è uno squalo bellissimo vabbè possiamo stare continuiamo andiamo a livello 20 andiamo a fare i soldi grattissimi 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 un attimo trasformazione 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 se no per prendere monete se no poi se la rubano gli altri si si wow no no trasformati sei più veloce forza vai via è mia storia tutta la mia e basta sono miei sono miei i pizzo vabbè un po' di soldi li ho fatti poi di qui abbiamo tre cose tipo questa cosa della piramide molto grande con un cranio di una madonna qua ne posso prendere il double mega 500 robux e non ho neanche un robux ma voi siete pazzi voglio distruggere qualcosa ma qui ci sono le mot non credo che le fa lui ah ecco Nemo ci spunta andiamo di qui ho messo la visuale allargata cosa posso vedere i palazzi se non sono cieco che ho che ho il il trasformazione più grosso della quanto la visuale quindi ecco io sono andato qua sopra e questo lo posso prendere e dai la voglio uffa un bello 21 e ragazzi io mi fermo qui cioè ci vediamo fra poco quando sono arrivato a livello 27 ciao ragazzi ragazzi ce l'ho arrivato a livello 27 ma ho scoperto sta cosa dove potrò entro il tempo salgo di livello cammina e distruggo sta cosa cammina in giino dei pompieri credo credo che tu persona vedo qua cosa succede mi hanno teletrasportato i boss gorilla e il dinosauro vai distruggi come faccio come faccio ah così distruggi voglio i soldi spero che mi danno i soldi così si 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 150 50 si 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 150 e adesso i soldi la skin ma io già ce l'ho ma vai via non c'è quella del dinosauro uffa io già ce l'ho quella del gorilla che balle poi mi trasformo così vado più veloce un parciur anche credo che questo percorso sia per arrivare qua per trovare un modo più easy però questa qua è una nuova area quindi io ci tento io parcorro e non andiamo d'accordo però voglio farlo qua non lagga tanto però sul telefono secondo me lagga perché io ho provato lagga adesso non so se il mio telefono non lo so ma forse si andi cos'è poi qui livello di 3 distruggi uffa qua arrivano i soldi yeeeh adesso andiamo qui ma io posso bloccare cose questo quale è? non lo so qui abbiamo abbiamo gli altri e adesso l'astronave poi ci sono i giganti questi qui sono quelli che si trovano le piramidi qui che si trovano e dai questo qua va più veloce io mi trasformo e ti supero no i soldi quanti soldi divento ricco se ti arrubo tutto ti arrubo a parte che i soldi rimbalzano e vanno giù su prendi prendi succhia si è tutta mia tutta mia tutti i miei soldi no è ritornato dai tu sei di livello 31 ho trovato uno tutte le persone no è arrivato un altro cosa è questo? è pure lui un'astronave così si astronave qua è livello 35 io uso quello più scarso dai fate andare avanti quelli scarsi mio vanno 10 no è più 10 soldi quando potrò avere il nuovo giusto? livello 17 una parola come li compro? non con i robux sono reale con i soldi questo qui molto bello molto cavino 1200 io non ce li ho bravo è arrivato a 1200 per bloccare questo qui cos'è? sempre 1200 è una mister paletta io voglio quei quelli tipo questo che lo scocciano lo voglio per favore una macchina dell'ospedale questo più soldi non più 5 non più 5 non più 5 perché abbiamo distrutto mezza città 1200 ora andiamo a vedere un po' questo questo non mi piace tanto quello premium non lo posso prendere poi altre skin questo cosa è? non lo so non mi piace tantissimo il dinosauro dove si prende? è vero il mio terzo ormai qui c'è un altro altri altri voglio ma li prendo tutti no dai che fregatura vip mac 400 ma tutti sì questo 300 questo qui è quello che costa di più no credo che sia quello centrale che a me piace tantissimo datemelo sì quello lì costa di più uffa però qui forse lo aggiorniranno quindi metteranno altri oddio poi quindi qui è dove costruiscono tutti le le i transformer poi controlliamo perché ho 1200 da spendere prendiamo un'altra skin proviamola e andiamocene e poi possiamo dire che ho molti lavori non dirmi che l'ho presa per favore dimmi che non l'ho presa per favore dimmi che no no non l'ho presa ha sempre i miei 1200 Godzilla queste qui sono queste due queste due sono quelle che si trovano nell'area delle piramidi quindi tu devi trovarle le diverse skin questo qui è l'aeroplanino già lo so già lo so non so rag questo qui è viola proviamo cosa sono uno squalo nami nami mangia mangia sfascia tutto sì già sto solito dire l'altro livello abbiamo il livello 27 e sblocco la con l'altra skin e basta me ne vado ho finito il mio lavoro posso dire che poi ho finito il mio lavoro a parte che guadagno solo soldi ma non salgo di livello sta così strano andiamo a vedere gli altri combattimenti di qui voglio andare attraverso la zona easy ecco questa qui è la zona easy ecco da questa parte la zona easy c'è sempre il gorilla quando fanno gli altri combattimenti che vuole il dinosauro quasi non li posso distruggere che peccato poi transformation wow no ok sono vivo sono vivo via distruggi 26 che adotti no ingiogna il gruppo reward no grazie inizio a fare il lag sono entrate troppe persone dai voglio salire il livello 27 dai sì non mi ha dato la schiena di serio io questa mappa avevano detto che mi davano un'altra schiena a livello 27 io un'astronave no niente schiena poi devo salire ancora di più poi ci sono troppe persone trasformazione vai in passato un'ambulanza addio e ragazzi io dallo squalo spero tanto che questo video vi sia piaciuto a parte che io ho anche il letterabot ho un letterabot che è un 2 poi un altro che si trasforma in è un trastorno proprio è un 2 che si trasforma in una persona cioè in normale in una normalità poi ho un 2 che poi si trasforma in in un in un jet e poi un altro che che da un diviso che da un diviso si trasforma in un non so in una pistola quindi dallo squalo è tutto da samuele a roblox e transformation da simulator tutto e noi ci vediamo in un prossimo video ciao ragazzi